carissimi amici fans estimatori clienti ho disegnato tutto questo anno per farvi bellissimi ma oggi mi accingo a scrivervi a parlarvi vi ringrazio tutti di vero cuore per il grande supporto che mi avete dato ogni giorno con le vostre lettere fiori regali inviti premi e quant'altro che arrivano a palazzo guais a caltanissetta grazie ancora per i vostri commenti di stima sui social verso la mia persona per le mie creazioni mi auguro di aver contribuito anche in piccola parte ad un sorriso o gioia o tutte e due di un vostro caro nel ricevere un oggetto firmato denny weiss e simbolo dal 1992 di eleganza e raffinatezza e unicità vi auguro di trovare sotto l'albero di natale meravigliosi regali firmati denny weiss ed avere accanto a voi la persona che amate non lasciando né tanto meno rinnegando mai il suo amore e dandogli ancora di più il vostro per tutta la vita con costanza e sincerità senza l'amore e come non è mai vissuto la vita come voi sapete io non ho una famiglia pertanto voi siete la mia famiglia specialmente in questi giorni santi e sacri vi abbraccio e un grazie un grazie ancora una volta a tutti voi dal profondo del mio cuore buon natale e buone feste vostro denny weiss grazie a tutti